ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per questo nuovo video di oggi oggi come vedete dalla schermata che avete davanti andremo a parlare di un plugin integrato in FL Studio che mi state chiedendo veramente in tanti questo plugin è il Fruity Stereo Shaper allora ragazzi il Fruity Stereo Shaper verrà diciamo in ordine cronologico prima del Fruity Stereo Enhancer è un plugin che ci serve per poter diciamo non tanto regolare la nostra immagine stereo ma in che senso ci permette di andare a dividere il mid dal side ovvero la parte mono dalla parte propriamente stereo quindi l'MS Mid Side Joint Stereo ci permette di andare a gestire indipendentemente il canale sinistro canale destro il segnale del canale destro mandato nel canale sinistro e il segnale del canale sinistro mandato nel canale destro queste sono un po le funzionalità principali oltre ad un delay e ha un una potenziometro per il face adesso ragazzi questo strumento si presenta con questa interfaccia grafica piccolina che magari a prima vista può un po disorientare ma non è così difficile da utilizzare tanto per cominciare sin dall'epoca quando studiai quello che era il manuale di FL Studio il Fruity Stereo Shaper è sempre consigliabile per non sbagliare utilizzarlo con le preset che trovate sotto la voce o di effetto quindi facendolo funzionare come un delay come un phaser o come un finto stereo che fra poco vedremo che cosa si intende per finto stereo ovvero che è un'impostazione stereo applicabile anche sulle tracce mono oppure con le funzionalità da mixing che andremo ad analizzare detto ciò ragazzi allora dobbiamo pensare che la nostra interfaccia è formata da un selettore pre post ovvero i nostri effetti delay e face possiamo decidere se andare ad applicarli pre mix matrix ovvero prima di questo matrix dei vari canali o dopo post questo messaggio dei canali come si presenta la nostra interfaccia se andate a vedere un attimo quello che ci indica lui stesso sul giallo qui guardando qui in alto a sinistra quando mi muovo ho left channel volume del canale sinistro volume del canale destro qui abbiamo invece vedete il canale sinistro ce lo indica il diagramma ovvero il canale sinistro nel destro infatti left into right channel quindi il canale sinistro quanto canale sinistro mando nel canale di destra idem qua se ci spostiamo sappiamo che questo è il canale di destra guardando il diagramma così il canale di destra questo quindi è il canale di destra mandato nel canale di sinistra perché vedete ragazzi quando io riproduco l'audio ho due canali sinistra e destra adesso questi due canali sono riprodotti in un unico file audio ma sono comunque due segnali differenti perché il segnale di sinistra e il segnale di destra non sono in questo caso nella mia canzone in mono che sono identici fra loro ma sono in stereo quindi la traccia essendo in stereo avrà delle sfumature diverse a sinistra e a destra quindi i due segnali sono simili ma non uguali ovvero mai uguali perché l'immagine stereo a sinistra e destra è sempre differente adesso qual è la funzionalità di questo strumento partendo dal presupposto che volessimo estrapolare solo l'immagine mono ok l'immagine mono sappiamo che matematicamente parlando è l più r diviso 2 quindi canale di sinistra più canale di destra diviso 2 quindi sarebbe come canale di sinistra diviso 2 più canale di destra diviso 2 quindi che cosa farò vado un attimo ad azzerarmi questo la mia il mio mixer matrix ok sempre la stessa cosa ragazzi quando muovete la leva qui i valori di corrispondenza li vedete in questa finestrella qua in alto a sinistra allora detto ciò so che qui mi trovo allo zero so che scendendo posso fare meno 6 meno 12 e andando nella parte sotto del mixer matrix invertirò la fase dei miei suoni andando sopra invece aumenterò il volume e sarò nella fase normale del suono stesso in che senso ritornando a quello che vi ho detto sappiamo che mono e se adesso mi trovo tutto a zero decibel mid ovvero mono sarà l più r quindi l lo portiamo ad un valore di meno 6 di b che corrisponde a uno 0 50 portiamo il right a stesso valore ok 0 50 ci siamo quindi l più r canale sinistro più canale destro qui ho ancora l'immagine stereo che cosa faccio porto il canale di sinistra ok lo porto all'interno del mio canale di destra quindi il mio canale di destra andrà più 0 5 ok dentro al canale di destra quindi canale sinistro dentro al canale di destra stessa cosa faccio col canale di sinistra nel canale di destra eccolo qua left into right channel avendo portato questo segnale all'interno del il segnale del canale destro nel segnale del canale di sinistra e il segnale del canale di sinistra nel segnale del canale di destra sono andato a fare una compensazione quindi sono andato a eliminare l'immagine stereo e a farmi un immagine mid sentiamola adesso vado a riestrarre a riportare via la sovrapposizione sentite avendo tolto questo qui ok ovvero il canale di sinistra nel canale di destra ok adesso ho solo il canale di destra in mono il canale di sinistra è stereo ritorno in stereo così ho la mia traccia in stereo normale adesso se io volessi estrapolarmi solo il side ovvero la parte stereo devo tenere in considerazione che cosa ragazzi che la mia immagine stereo la otterrò facendo l meno r diviso 2 quindi che cosa faccio vado a fare l positivo meno r ok quindi lo riporto a meno 0 50 meno 6 di b quindi più 6 meno 6 adesso però è meno l'inversione dell'immagine quindi porterò il canale questo è il canale di destra nel canale di sinistra me lo porto anch'esso a meno 6 e mi porto invece il canale di sinistra nel destro a più 0 a più scusate a più 0 5 quindi sempre inteso come meno 6 di b e ho solo l'immagine stereo questo ragazzi in soldoni è un modo di andarci a regolare l'immagine stereo e possiamo cercarci le preset cliccare su mid eccolo come prima solo mono solo stereo e potrò andarmi ad isolare le varie immagini stereo invece partendo da un preset di default a che altro può servire il fruiti stereo shaper perché ragazzi se alcuni di voi hanno pensato che il fruiti stereo shaper funzionasse come il live dopo zone imager che è un regolatore di immagine stereo per frequenze si sta sbagliando questo ci può tornare utile nelle fasi finali del mixing o nelle fasi finali del mastering per i singoli suoni posso usarlo per creare un finto effetto surround portando il delay a 20 ms ok disattivo attivo quindi spostandomi verso destra che cosa sto facendo sto dicendo che il mio canale di destra viene ritardato di 20 millisecondi creando con questo piccolo ritardo un effetto psicoacustico stessa cosa succede se vado in ritardo di 20 millisecondi a sinistra si crea un simile effetto stereo questo è molto utile utilizzando sia il delay che il face è molto utile questo strumento utilizzando anche in combo delay e face per poter dare magari un effetto di finto stereo quindi quello che viene definito stereo eyes anche a dei suoni mono che in questo caso non vogliono ovviamente un'immagine stereo perché costruire l'immagine stereo del basso posso farlo in questo modo qua andando a fare un finto stereo che comunque lascerà quel segnale diciamo in mono fondamentalmente disattivo attivo quindi ragazzi ascoltate con delle cuffie vi renderete conto che stiamo creando un simile immagine stereo ok al nostro suono poi ragazzi per l'immagine stereo non fate queste espansioni col fluidi stereo shaper se vi serve da ovviamente andare a creare un'immagine stereo importante di un suono costruitela dettagliatamente con i vari sending a effetti come reverb e delay reverb e delay sono effetti top e bastano già loro per poter andare a regolare quel suono nell'immagine stereo quindi pensando ai nostri suoni come qualcosa di tridimensionale possiamo andare a regolare un buon riverbero che non sia né troppo lungo né troppo corto né troppo accentuato con un magari quella puntina quella finezza di delay che ci ucciderò qualcuno oggi ragazzi andare niente ragazzi sanno già che io sto registrando il video e faranno rumore sempre stavo dicendo possiamo andarci a regolare l'immagine stereo semplicemente utilizzando altre tipologie di effetti eccoci tornati ragazzi scusate l'interruzione stavamo dicendo il fluidi stereo shaper può tornarci utile in altre occasioni come la il mastering in mid side quindi andare a dividere mono e stereo della nostra traccia chiusa e web mixata e non già masterizzata come in questo caso andiamo ad assegnare la nostra traccia al primo canale se vi sia tolta questa spunta per selezionare il canale come mi chiedete in tanti freccettina in altra sinistra show mixer track selectors fatto questo ragazzi andiamo ad aprire nuovamente il nostro fluidi stereo shaper andiamo ovviamente ad aprirlo all'interno del nostro canale track 1 del insert 1 del mixer andiamo con l'insert 1 del mixer selezionato a dare tasto destro a dire side chain to this track quindi andiamo a fare un side chain sulla seconda traccia del mixer in questo caso e stiamo attenti a lasciare attivo ovvero il routing del canale al nostro mixer fatto ciò apriamo il nostro fluidi stereo shaper diamo preset diamo mid a side splitter ovvero sul canale selezionato dov'è il fluidi stereo shaper rimarrà l'immagine mono andiamo ad inserire insert 2 e nel secondo insert del mixer avremo solo l'immagine stereo disattivando questo rimane solo l'immagine stereo attivando questo ho il mono e così ho il solo mono solo stereo solo mono quindi ragazzi con questo semplice trucchetto che non è del mago di nì ma è dato da un semplice routing lasciamo sul mandiamo la nostra traccia nel primo insert del mixer poi andiamo a fare il routing andiamo a dare tasto destro tasto destro side chain non routing side chain scusate side chain a questa insert mandiamo nell'insert 2 la parte in side chain manterremo sull'insert 1 dove è presente il fluidi stereo shaper e nel ovviamente è presente anche la traccia l'immagine mono e nella mandata avremo invece l'immagine stereo quindi potremo selezionando i due canali trattare i due l'immagine mono e l'immagine stereo proprio separatamente detto questo ragazzi fondamentalmente abbiamo detto tutto perché dopo ci sono avranno un nuovo fluidi stereo shaper le altre funzioni da preset che sono aside ci permette di avere una finta immagine stereo aside mid splitter fa il contrario di quello che abbiamo appena visto lascia sulla traccia dove ho mandato la canzone ovvero sull'insert 1 di turno lascerà l'immagine stereo e manderà nella seconda la mono la stessa cosa di quello che abbiamo appena visto al contrario invert inverte la fase ovviamente inverte la fase della nostra traccia invert left inverte la fase del canale sinistro invert right inverte la fase del canale destro left right splitter va a fare una splitting di left e right quindi abbiamo solo il canale sinistro che però funziona abbiamo anche al contrario l'LR to LL quindi left right to left left significa che il canale di destra il volume del canale di destra verrà distrutto e avrò il canale di sinistra con il volume del canale di sinistra e il canale di destra sarà riempito con un segnale con una copia del canale di sinistra quindi avrò invece che segnale di destra e sinistra avrò segnale sinistra sinistra entrambe le casse riprodurranno mono solo il segnale di sinistra l'R2MS passerà da left right a mid side quindi abbiamo come vedete un passaggio da vedete sentite se avete delle cuffie abbiamo nella cuffia di sinistra il side nella cuffia di destra abbiamo il mono quindi splitta l'immagine stereo fra le due cuffie l'R2RL inverte i canali quindi da sinistra al posto del destro e destro al posto del sinistro l'R2RR distrugge canale sinistro e destro mettendo canale destro e destro in entrambi i segnali mid lascia solo l'immagine mono side lascia solo l'immagine stereo e lo splitter non ve lo rispiego perché è semplicemente l'inverso di quello che abbiamo visto precedentemente detto questo ragazzi facendo un recapitulato che significa che rivediamo al volo è possibile dividere immagine mono stereo sistemare canale di sinistra a canale di destra fare operazioni carine e divertenti poter regolare un finto stereo con delay e face o creare un finto effetto surround è consigliato utilizzare per il trattamento dei singoli suoni ovviamente riverbero e delay in modo accurato e coscienzioso o in alternativa andare a regolare un po' di quello che è il panning stereo nell'immagine stereo con tool o VST come volete chiamarli come l'immager S1 di casa Waves o l'immager di casa High Zodop Zone detto questo ragazzi io per questo video di oggi ho concluso come sempre spero di essere stato il più chiaro possibile pur essendo molto complesso almeno a primo impatto e inizialmente il concetto detto ciò vi invito a lasciare un bel pollicione su se questo video vi è piaciuto ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e a condividere questo video con tutti i vostri amici che si stanno croggiolando per la loro stanza cercando di capire che cosa sia questo Fluity Stereo Shaper arrivano sirene rumori da ovunque non ce la faccio più perché ogni volta che decido di registrare mi viene a prendere FBI CIA non so che cosa succede io con questo ragazzi vi auguro almeno a voi un buon proseguimento di giornata noi ci vediamo ci vediamo raga ciao grazie a tutti